Salernitana, clamoroso bis, ora sogno e isco. La Salernitana sogna in grande. Così, dopo Guillermo Ocoa, 37, il club campano prova un altro. Clamoroso, colpo a zero, isco, 30. Il centrocampista spagnolo è svincolato da quando ha trovato l'accordo sulla rescissione del contratto con il Siviglia. Su espressa indicazione di Orge Sampaoli, 62. Il tecnico argentino è stato infatti decisivo per l'addio del calciatore che all'età di 30 anni si sente ancora nel pieno della sua carriera. Dal giorno della rottura, l'agente Orge Mendes non ha avuto quindi contatti solo con i club della MLS e il Wolverhampton, risultano chiacchierate con altre società straniere ed italiane. Tra cui la Salernitana. L'affare ovviamente resta molto complicato e complesso. Considerando le ambizioni e l'alto stipendio del giocatore che a Siviglia guadagnava un milione di euro a stagione. Ma con la possibilità di arrivare a 5 con i bonus. La Salernitana in attesa, prima di dare una risposta definitiva. L'ex Real vuole capire se arrivano offerte da club più prestigiosi. Non solo, ieri sono stati mossi passi importanti per chiudere il ritorno di Nadir Zortea, 23. Il terzino ha spinto molto, vuole rientrare da Nicola ed è già d'accordo con la Salernitana. Sul fronte attacco, si registra invece il pressing di Milan di Urik, 32. Il bosniaco è in stretto contatto con Davide Nicola, 49, perché vuole lasciare il Verona che aspetta il ritorno di Fabio Borini, 31, pochi mesi dopo il suo arrivo a parametro 0. Ufficialità programma rispettato, ieri Sam Lammers, 25, ha svolto le visite mediche con la Sampdoria. Mentre Francesco Caputo, 35, si è presentato al centro sportivo di Empoli. All'attaccante pugliese. Di nuovo in Toscana con la formula del prestito ed obbligo di riscatto in caso di salvezza. È stato garantito un contratto di due anni. Intanto, la Taranta non molla il centrocampista di proprietà del Monaco. Magnisa Kliocke, 20, molto apprezzato anche da Lille. In uscita partirà almeno uno tra Eremie Boga, 25, e Ruslan Malinovski, 29, Liburiano e Conteso da Fiorentina e Leicester con i secondi. Ricordiamolo, pronti ad offrire un prestito con riscatto fissato sui 15 milioni di euro. Fase di stand-by per il mercato del Monza in attesa del ritorno di Adriano Galliani. Bloccato Iosip Brecalo, 24, i Brianzoli nei prossimi giorni valuteranno anche l'ingaggio in prestito di Daniel Maldini, 21. Attesa per l'attacco, invece, sono stati offerti Roberto Piccoli, 21, e Lorenzo Lucca, 22. Morten Ullmand, 23, non partirà a gennaio. Il centrocampista de Lecce, molto richiesto in Italia e all'estero, verrà venduto in estate al miglior acquirente. In entrata, non si sono invece ancora verificate le condizioni per un arrivo di Youssef Male, 24. Mentre il file Edoardo Bove, 20, verrà riaperto qualora dovesse definitivamente saltare l'operazione tra Roma e Sassuolo per Davide Frattesi, 23. Ai Salentini è stato accostato anche Zizimon Zurkowski, 25, ma sul centrocampista polacco c'è mezza Serie A, lo vogliono Empoli, Spezia, Sampi e Salernitana. Virgola.